Chi è quello? Comunque quella è una rompicoglioni quella tizia, non puoi parlare che sta là e rompe le palle. Sweet dreams are made of dreams. Bella. Chissà perché i titoli sono tutte canzoni. Please, va bene. Dopo questa perla io devo andare. Va bene Jack, grazie mille. Allora, chi c'è lì avanti? Cosa? Quindi? Ma vai, non lo sapevo c'è una gas station. Il proprietario è ambiguo, nel senso che gli piace o nel senso che è strano. Va bene. Chissà. Andremo lì e qualcuno cercherà di attentare alla nostra virginità anale o è strano semplicemente perché è strano? Oh, un passaggio, un passaggio. No? Ok. Oh, ho rotto il lucchetto. Prendi il chiave della macchina, bellissimo. Ho le chiavi di una macchina. Quale macchina? Non c'è una macchina. Cerchiamo nell'immondizia. Cosa troviamo oggi nell'immondizia? Vediamo. Oh, un bel pacchetto di cibo marcio, ragazzi. Mi raccomando, andate in giro a cercare cibo marcio nell'immondizia. Non so se posso fare qualcosa con questo motore. Oh, posso riposare qui. Che bello. Così recupero un po' di energia perché effettivamente per spaccare il lucchetto ho perso due unità di energia. Facciamo una cosa, entriamo nel negozio. Inculiamoci qualcosa nel negozio. Una radio. Ah no. Una radio, riproduci... Versti cazzi. Che altro abbiamo da fare? Un telefono? Chiama a casa, un dollaro. Proviamo. Scommetto non mi risponde nessuno. Sì. Eh? Hello? Quindi? Babbo. Le belle discussioni con i genitori. quelle lì costruttive. Basta prendere a calcio i distributi. Loro è rotto, lo sappiamo. No! Perché? Mangia, ok. No, voglio giocare! Cos'è? Oddio! Che bello! E' tangulato! Vai! Guardate con questo lo vingo! Oddio! Che culo! Madò, bellissimi! Questi erano i giochi quelli belli. Madonna! La tattica è sempre quella! E quindi? Eh beh, ho vinto! Oh, che fa? Non metto niente? Vaffanculo! Non posso prendere soldi. E' bellissimo questo coso! E quindi che cazzo posso fare qua? Non posso rubare niente! Ah, sta quella tizia in tv! Sti cazzi! Ah, posso prendere pure il gratto e vinge! Vabbè, parliamo con questo! Vediamo che dice! Sono più vestito che fosse la sua! Quindi, andiamo da... 2021, eh? Quanti? Non me lo dice? Ah, vedi, c'è pure la percentuale di quanto conosco le persone. Ok, cosa che non avevo notato prima. The Wild Boys! Cazzo, mo' me la son gulata sta macchina! Ah, non guardarci! Porca puttana! Ok, guardo dietro! Cazzo! Ciao! Ciao! Oh, biscotti! Ok, quindi... Vabbè, ho capito! Mazza, e quanto corre sta macchina? No! Ah, hanno rapinato? Ma... Cazzo di porta chiavi è! Mazza, ma sono soldi! Non sono biscotti! Vi è caduto un soldo? Dopo me lo incuro. Oh! Eh, io sto a guidar, ma dove cazzo devo andare? Sì! Grazie! Voglio fare il ladro nella vita, certo! Sì, ma dove cazzo devo andare? Aiuto! Non posso mettere le mani come Aldo, Johnny e Giacomo! Aiuto! Non ci sono... mi stanno cagando, effettivamente! Un'idea! Ah, ok, parlavano della... Vestiti da sadomalsuchisti, sì, effettivamente! 72 dollari? Solo? Cazzo, un sacco pieno di soldi su 72 dollari! Sì! Oh, jeez! Ma perché non mi cagano? Ficcatelo nel culo, questo fucile! Mamma affanculo a me che gli parlo pure! Posso schiantarmi contro un palo? 4 domande per cui Mitch evalua il tuo pensiero criminale! Ok... 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 Ho bisogno di... Ho bisogno di... Ho bisogno di... Ho bisogno di... Perfetto la pena tu! Bellissimo! Perfetto la pena... Ho bisogno di... Egli... Ok... Cazzo, ho indovinato, un fast food, qui devo dare la risposta più stupida che mi viene in testa. Ho il dubbio che qualsiasi risposta sia giusta, però va bene. Qual è il momento migliore di fare una rapina? La mattina presto. Giusto, perché lui dorme. E' vero. Ok. Morirò? Uno che parte, perché il vostro... Vabbè, c'ha ragione, non è che può. Come prevedì? Vaffanculo. Scusa, la moto non vi è partita a voi, quindi non era la moto, l'elicottero. L'ultima possibilità. Sono morto, eh. 100-100. Domanda quattro. Erano tre domande. Final question. Qual è la migliore cosa per fare con il vostro dinero? Nel vostro hideout? Beh... Saltare sul letto circondato dalla grana, mi sembra la risposta giusta. Certo. Certo. Perché piovono soldi? Può indovinare. Ah, è così ovvio che non c'è motivo di spiegarlo, giustamente. Sono passato, ragazzi. Non l'ha mai superato, ma l'ha inventato lui. Stai calmo. Dai, stai calmo. Sono un po' deficienti questi, ma leggermente. Siamo i miglior partner del mondo. Volevo rapinare insieme a voi. Brutti pezzi di merda. Bastardi. Entriamo dentro. Entriamo dentro e vediamo di... Apri? Non puoi aprire e basta. Perché devo fare queste apetture strane? Buonasera. Stiamo cercando il vostro codice, quindi... Nel cesso non c'è. A quanto pare... Ma sono... Ah, che schifo. Chi ha lasciato uno stronzo lì nel lavandino? Nel bagno? Beh, proviamo anche quest'altro. Happy Taxi. Eh, non l'ho ancora mai provato il Taxi. Dovrò chiamarlo prima o poi. Prendi. Carta di credito. Wow. Harry Denton. Usa gli ATM per ritirare i soldi. Ma non so il codice. Come faccio? Arrivederà? Dobbiamo... Dobbiamo assolutamente trovare questo codice. Fatti i cazzi tuoi. Innanzitutto. La prima cosa che puoi fare per me è farti i cazzi tuoi. Devo cercare il codice per entrare nella tua stanza segreta. Oh, ma questo è... Pong. Mazza. Aha. Ok. Ok. Certo. Fatti i suit. Ti scuccio il culo. Che cos'è il Pong? Quello di prima. Il primo. Eh, ma va. Non è la cosa più bella che hai mai visto? Mazzate. Oh, queste pigliatute. Ma questo è imbroglio. Oh, bastardo. Imbroglione di merda. Non vale così. Vaffanculo questa te la pigli. Ah, buon proseguimento. Grazie Spivo. Adesso ho letto. Stavo guardando ma non avevo letto in realtà. Grazie mille. Spero di riuscire a trovare la libertà. Grande. Grande. Devo vincere quest'altra e sto a posto. Vabbè, ma è un po' lenta la pallina, quindi... Madonna, l'avevo quasi fatto. Grande. 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 Ho vinto. Io ti ho battuto. Sì? Anche un paio, dai. Ti do un paio di minuti. Puoi piangere sulla mia spalla. O offrirmi la cena. Certo. Sono d'accordissimo. Cosa facciamo? Con questa canzone fighissima? Il ministro del petrolio addirittura. Dammi i soldi. Vaffanculo. Il 54% ho sbagliato due su due. Va bene, ce ne andiamo. Ciao. Il lavoro è semplice. C'è un luogo all'interno, dove mantengono i soldi. Ah-ah. Sarebbe rubare, ma non lo è. Esatto. Andiamo. Dai, vinculiamo, vinculiamo, dai. Come fai a sapere il codice? Ah, giusto, è un hacker. Un giorno i scienziati studeranno il mio cervello. Grande, i soldi. Ricchiavi della macchina. Dallanzia sulla via, il telecomitore. Ho visto il muro, il telecomitore. Ok. 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 Oh, i soldi. C'è la macchina. E anche la macchina. Duh. Non avrei mai potuto indovinare il codice. Ehi, bimbo. Mi serve il codice. Aspetta, a meno che... 1-9-8-6. No, potrebbe essere. 1-9-8-6. No. 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 Ehm... Ci sono numeri qui? Non ci sono numeri. Apri. Oh, aspetta. 11-6. Aspetta, 16-11? No, 12-11. Proviamo. Potrebbe essere. 11-12? Affanculo. Non conosco il codice. Come faccio ad entrare? Eh... Connie Sanford. Connie? L'ho già sentito. Ah, Connie è la figlia del... dell'autista, Connie. Un'altra cosa. Eh, no. Tutte ste date, ma non capisco. Brigadista Thomas Cason, che sta scontrando su pieno per arti terroriste, afferma che il capo del brigato non è mai stato preso e che sia lungo ancora a piede libero. B. W. 1-6-7-2? O 2-6-7-2. Proviamo. Ma vai a piegare. Sì, ok, va bene, va bene. Basta mi dare il coso così... Oh, che bello. Un'altra abilità. Vai, mi piace. Prendi i soldi. Prendi i soldi. Prendi i soldi. Scappa. Cazzo, ti pareva che arrivava questo. Nell'armadio. Dai zitto. Ho richiuso tutto? Non mi ricordo. Non mi ricordo.. È bублиper la pentola. Allora è bello. Allora sono stata al Proviamo con le buone Ma si è ripreso i soldi Bastardo E adesso? Non lo posso ri-hackerare Peccato Vabbè però mi sono guadagnato Chiavi della macchina Ah era lui che voleva parlarmi Quindi adesso Quindi adesso posso fare un cazzo Voglio chiamare il taxi Dai abbiamo 39 dollari Chiamiamo un taxi Usa Chiamiamo un taxi Vediamo se arriva il taxi Eh voglio un taxi Ah ok Come l'aiutiamo Poi non mi fai scegliere Ok 12 dollari Puttana 12 dollari per un taxi Wow Solo per farlo arrivare Poi lo devo pagare pure quando mi ferma Ok 990 km al confini Però sto rifacendo la stessa identica strada dell'altro ragazzo Chissà se è normale che sia così O a un certo punto O a un certo punto devi irà Walk the dinosaur Bussa Leggi Ah sì Ti piacciono i dinosauri? Che è stato? Che vuoi? Soldi Ah già Un altro Devo andare là? Certo Mi hai fatto finire tutti i soldi O a un certo punto var in O a un certo punto Che vuoi capisci tempo Una Che vuoiàn E cię